In questo video voglio mostrarti un esercizio che ti aiuterà a rigenerare l'organismo al risveglio e ossigenare il corpo, visto che è stato fermo tutta la notte. Quindi con questo esercizio apporteremo aria fresca, aria nuova, e butteremo via quella vecchia. Ecco cosa devi fare. Appoggia le mani sulle tempie e le dita sulla testa, così, quindi inspira profondamente e poi con l'espirazione premerai sulle tempie e tirerai la pelle indietro, contemporaneamente butterai fuori l'aria e la lingua finché va e se vuoi puoi emettere anche il suono. Così, quindi inspiro. Questo ti consiglio di farlo ogni mattina per almeno cinque volte.